Sono Alessia Bianchi, sono insegnante di arpa e arpista di Popcorner. Onesta, molto onesta, dice sempre la verità anche quando non dovrebbe. È dolce, mi fa sentire al sicuro. Il primo approccio è la postura, perché l'arpa deve rimanere in bilico sulla spalla destra, quindi si prende confidenza con lo strumento. Dopodiché si guarda la posizione delle mani, vengono usate solamente quattro dita, il miglio non viene usato. Viene spiegato ovviamente come orientarsi sulla cordiera, quindi i do sono rossi, i fa sono neri e si prova a suonare le prime note lentamente, dal pollice verso il quarto dito e dal quarto dito verso il pollice. Una volta che si è presa confidenza con tutte e due le mani, di solito propongo già una prima melodia molto semplice da fare con solamente il secondo dito, che è un'aria scozzese. E viene seguito.